Allora, cosa ne pensa della sedia di rotelle? Un buono, un buono, però mi piace di Leccega Ah, lo dici se c'era una a Leccega? Eh, non mi sapevi dire quanto ha comprato Ah, gliel'hai chiesto? Eh, ce l'hanno regalata, la costa a costa Eh? La costa a costa che ho dovuto mandare quanto ha costato No, ma quella non la paga, quella lì, e ti sa? No, la ha comprata, non ti sa perché la ha comprata La comprata se lo guarda